Dopo aver trascorso i primi nove giorni di malattia a casa con i sintomi lievi del coronavirus, ha dovuto poi recarsi in ospedale ad Ariano Irpino con il sopraggiungere di qualche complicazione, essendo il primo cittadino di Bisaccia, Marcello Arminio, affetto da altre patologie che avrebbero potuto complicare il quadro clinico. Dal nosocomio e dal reparto di medicina generale non ha mai perso però il contatto con i suoi concittadini e ha cercato di guidare il proprio paese da un letto d'ospedale. Dopo giorni di degenza finalmente Arminio ha fatto ritorno a casa e appena dimesso ha fatto circolare in rete un video messaggio per comunicare il suo rientro a Bisaccia ma ha voluto anche ringraziare pubblicamente tutto il personale sanitario dell'ospedale frangipane di Ariano Irpino e soprattutto la dottoressa Anna Maria Bellizzi, primario del reparto di medicina Covid nel nosocomio arianese. Mi sono rimesso, sono a casa, certamente ci sarà un periodo di convalescenza ma la cosa che voglio ancora ribadire è il ringraziamento a voi per una vicinanza affettuosa e costante. Ringrazio anche ovviamente la dottoressa Bellizzi, primario della medicina del frangipane di Ariano e tutta l'equip medico e paramedico che sono stati estremamente bravi sia come professionisti sia come persone e aiutano continuamente ogni giorno tutti coloro che soffrono e che sono caduti in questa situazione. Io voglio dirvi subito che il virus è terribile. E' terribile perché in pratica è subdolo e all'inizio pare come se se ne stesse per conto suo poi invece nei giorni successivi aggredisce organi e aggredisce tutte le situazioni che hanno una debole patologia. Quindi bisogna stare estremamente attenti.